Ciao a tutti i miei legionari e preparazioni non iscritti, sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Geopolitical Simulator 4 2021 con la Spagna. Iniziamo subito anche perché ho deciso che questo sarà il penultimo episodio di questa serie, quindi abbiamo ancora un bel po' di cose da fare per arrivare a fine anno. Facciamo subito partire il tempo, se non faccio un doppio clic è decisamente meglio e mentre il tempo va vi comincio a dire il perché vorrei terminare questa campagna a fine anno. Alla fine tra le grandi novità di questa edizione c'è anche quella delle coalizioni di governo e dato che siamo abbastanza lontani dalle elezioni generali in Spagna ho deciso che porterò un'altra serie in cui magari le elezioni sono più vicine in modo da vedere subito anche quella parte di questa nuova edizione. Per il resto comunque abbiamo guardato come funziona con gli aiuti speciali dovuti alla pandemia e in generale ai fondi dell'Unione Europea in questa campagna. Abbiamo visto anche un po' di altre novità che riguardano per esempio anche la gestione del debito pubblico. Uno di voi tra l'altro mi aveva detto stai attento perché mi sembra che tu abbia messo negli interessi di qualche video fa una cifra in un modo particolare per cui hai chiesto hai offerto il 475% di interessi fortunatamente è andata bene e non è successo. Ad ogni modo vabbè finiamo questa trattativa comunque con i tedeschi 2% ma perché me lo metti qua mi manda al diavolo? Non mi ha mandato al diavolo wow 2% di interessi e questo è ottimo. Comunque sono molto soddisfatto dei cambiamenti che hanno fatto per quanto riguarda la gestione del debito. È più semplice da gestire e permette anche di regolare un pelo meglio la gestione del debito. Io mi son trovato bene infatti se ben vi ricordate nello scorso episodio abbiamo chiesto un prestito alla BCE il cui tasso di interesse è lo 0%. Siamo andati a distinguere tutti i vari prestiti minori e adesso ne abbiamo solo 4 maggiori con tra i nostri grandi alleati che sono Francia, Germania e Regno Unito e ce n'è uno anche con la Cina. Il che è ottimo perché ci permette di gestire al meglio tutte le trattative e anche di minimizzarle. Una cosa che però voglio evidenziare che manca e sì passerò questi ultimi due episodi a lamentarmi a lodare naturalmente i passi avanti che sono stati fatti ma anche a dire cosa manca. Una cosa su cui secondo me dovrebbero molto concentrarsi i ragazzi della Eversim riguarda la gestione dei contratti commerciali. Dovrebbe essere previsto un rinnovo semplice diciamo dei contratti. Per farvi un esempio noi siamo alla Spagna in questo episodio e vogliamo fare un contratto con la Francia ok? Vogliamo vendergli... cosa vogliamo vendergli alla Francia? Vogliamo vendergli un po' delle nostre macchine elettriche va bene? Macchine elettriche in realtà al momento non ci converrebbe una cosa del genere però facciamo che lo vogliamo fare. Io faccio tutto il mio contratto decido che dura due anni eccetera eccetera eccetera. Poi perché maledizione il contratto scade e basta? Non sarebbe bello se ci fosse un modo per cui è possibile rinnovarli magari ti riappare questo ti dice guarda il prezzo migliore di vendita in Spagna è questo qua che naturalmente sarà cambiato nel corso del tempo quello d'acquisto della Spagna è questo qua e questo qua era il prezzo con cui vi eravate concordati all'ultimo contratto. Vuoi cambiarlo? Non vuoi cambiarlo? Per quanto tempo vuoi rinnovarlo? Vuoi fare sempre lo stesso numero di unità? Considera che il vostro contratto riguardava questo numero di unità e adesso la produzione invece è cambiata in questo modo. Ecco questa è una cosa che sarebbe davvero molto utile perché andrebbe a semplificare comunque la parte dei contratti economici poche balle è molto rilevante in questo titolo e tra virgolette bisogna anche un pelo citare perché abbiamo ben visto che fare i contratti economici giusti porta a decisivi miglioramenti della nostra economia nazionale che però si riflettono sfortunatamente solo negli anni in cui si fanno si fanno i contratti non inteso dura due anni e si vede l'effetto in quei due anni si vede solo nel momento in cui si firma il contratto. Quindi decisamente c'è da starci attenti perché la Grecia è impazzita e vuole venderci tutto il suo legno ha detto sai che c'è? Noi disboschiamo tutto in Grecia e vendiamo tutto agli spagnoli ma perché? Perché io lo accetterei anche un contratto di questo tipo se permette di risparmiare ma io adesso guardate farò questa cosa qua e lui mi dirà ehi ma io non voglio venderti tutta quella quantità di legno e noi diremo e allora perché hai fatto anche solo la proposta? O cielo sono seri? O cielo che affermazione britannica sono sono seri con l'offerta cioè vogliono vogliono comprarli da qualcun altro a prezzo a prezzo minore probabilmente e vendere a noi tutta la loro produzione ma già non è neanche una brutta brutta idea se per esempio i greci riuscissero a comprare un prezzo minore da un altro paese e vendere la loro produzione a noi è anche una buona tecnica secondo me. Legionario un piccolo intermezzo pubblicitario esclusivo per voi se non aveste ancora letto i due racconti che ho pubblicato questo sarebbe davvero un ottimo momento per farlo una lettura e una recensione da parte vostra sono davvero di grande aiuto e se i racconti vi piacessero così tanto e aveste persino la voglia di condividerli con amici conoscenti e parenti questo sarebbe fenomenale. Io Legionario vi ringrazio per l'ascolto e continuiamo pure con il nostro video. Bene abbiamo fatto un bel contratto con quella Grecia che di sicuro migliorerà l'economia ma cosa stiamo facendo tra l'altro in questo momento? Consegna del vaccino, licenziamenti, le reti di distribuzione idrica hanno appena annunciato la perdita di 1,13 mila quindi 1130 impiegati a causa della crisi economica vabbè poteva andare decisamente molto peggio. Indennità minima di solidarietà sono passate ok risciate del successo. Primo Ministro la sua popolarità mi lascia senza parole anche a noi sarò sincero anche a noi e volevamo alzare il salario minimo giusto 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 mantenimento delle imposizioni di politiche di tracciamento va bene vediamo un attimo come siamo messi a livelli di pandemia che alla fine è stata una delle cose più importanti che abbiamo fatto in questa in questa campagna e parentesi non ho adorato le meccaniche ma ve l'ho detto non per il fatto che non siano abbastanza approfondite ma per il fatto che sono legnose. Il fatto che io non posso rinnovare i contratti cioè c'è il contratto rinnovato in automatico per il covid-19 ma solo se segui tra virgolette i contratti fatti dall'Unione Europea. La stessa cosa dovrebbe essere fattibile anche per tutto il resto perché se no davvero la gestione è noiosissima non è minimamente intrigante è comunque questo geopolitical è comunque un gioco e questo deve restare. È molto bella la parte della simulazione sapete che la adoro ne vado pazzo però voglio dire ci vogliamo anche divertire un pelo campagna di vaccinazione inefficace giusto a quanto sono a quanto siamo siamo il noi che è meglio quanto siamo arrivati 22,84% della popolazione vaccinata è pochissimo in un anno è passato il salario minimo ok persone a rischio ancora esortate a stare in casa e io ritorno un'altra volta sulla sanità perché perché no tasso di incontaminazione R0 siamo a 0,78 quindi non male decisamente non male va bene va bene l'inflazione come è andata nel corso dell'anno ok il rendimento decisamente crescente siamo partiti dallo 0% un 2,95 però ha senso comunque con le varie politiche che hanno fatto immettere un sacco di fondi all'interno della nostra economia assolutamente senso abbiamo fatto poco per quanto riguarda le politiche dell'UE non abbiamo fatto nessuna armonizzazione per quanto riguarda le tasse ma sono tutte manovre che hanno senso in una campagna di lungo termine e sarò sincero una cosa che pecca in questa aggiunta che hanno fatto che comunque è un'ottima aggiunta è il fatto che davvero lasciano tutto in mano al giocatore se il giocatore non fa niente non succede niente e in questo caso sì che servirebbe un po più di simulazione non è che ci siamo solo noi poi va bene comunque non è malvagio va bene comunque per quanto riguarda il voto beh abbiamo visto che alla fine era maggioranza scusate non una maggioranza assoluta è a unanimità che vanno le votazioni è una cosa che si può cambiare quindi comunque non male questa cosa dell'adottare tutte le regole del parlamento io sarò sincero non l'ho capito nel senso penso che questo renderebbe darebbe la possibilità al parlamento europeo di di proporre leggi vediamo un po il voto del parlamento europeo viene incluso principalmente per stabilire il budget di spesa dell'unione anche se la loro revisione necessaria non è la decisione finale sulla politica fiscale sugli accordi di libero scambio o sulla missione di nuovi membri solamente il consiglio prende questa decisione considerata principale istituzione letta tramite soffraggio universale dovrebbe logicamente avere gli stessi poteri ah essenzialmente ok ok quindi quello che intende con adottare tutte le leggi del parlamento è una traduzione fatta un po così che lascia il tempo che trova intende a prescindere dal fatto che tutte le nazioni tutti tutte le presidenze delle delle varie nazioni siano a favore per una determinata proposta sono da considerare anche le proposte e da considerare anche la posizione del parlamento sulle varie proposte perché se il parlamento non è d'accordo non passa suppongo che intenda una cosa di questo tipo e noi proviamo a farlo giusto perché tanto la campagna sta finendo quindi rimuovere la regola dell'unanimità di voto vabbè questa lasciamola al momento la regola di voto per paese nel consiglio maggioranza qualificata vabbè questo è il consiglio dell'unione europea che non è ci sono due consigli che hanno quasi lo stesso nome all'interno dell'unione europea una cosa che confonde davvero tantissimo per quanto mi riguarda uno che è il consiglio dei ministri che in realtà sono vari consigli è cominciato se non ricordo male con quello delle finanze dell'economia che si riuniscono ogni tot per decidere nei loro rispettivi ambiti politiche comuni poi c'è il consiglio perché penso se non ricordo male è il consiglio dell'unione europea il consiglio punto il consiglio invece raccoglie tutti i capi di stato e o presidenti a seconda del tipo di governo della nazione europea presa in considerazione e va bene quindi per quanto riguarda il consiglio dell'unione europea quindi dei ministri questa è la modalità di voto vabbè non vogliamo fare nulla per ora queste sono le solite cose lasciate l'eurozona esce l'eurozona sostieni la sosteniamo grazie mille per avermi dato una barcata di soldi quindi siamo contentissimi poi vabbè qua abbiamo le spese allora suppongo quando l'abbiamo ben visto che i cambiamenti qua vadano a influenzare la quota cofinanziata dall'unione europea ora per spiegare più chiaramente quello che intendo andiamo per esempio su cos'è che non abbiamo messo niente su ricerca se noi andiamo su ricerca abbiamo tutte le varie stelline che riguardano i fondi che stiamo dando ai vari ambiti di ricerca mettiamo che vogliamo aumentare la ricerca sulle scienze della materia noi vediamo che l'unione europea ci darebbe il 20 per cento quindi il costo complessivo è 577 milioni l'unione europea ce n'era 144 io suppongo suppongo perché non lo so con certezza che se noi facessimo una cosa di questo tipo ovvero diciamo sai che c'è aumentiamo i fondi sulla ricerca e innovazione a quel punto i fondi che l'unione europea ammette quando noi mettiamo le stelline sono aumentati però è un'ipotesi mia per quanto riguarda le entrate vabbè queste sono è la modalità tramite cui lui riceve riceve budget una è naturalmente la tassa sulla sulla plastica che è stata scelta come tassa comune che in parte riempie le casse dell'unione europea o completamente non mi ricordo se parte finisce nei governi nelle tasche tra virgolette dei governi e in parte in quelle dell'unione europea o completamente dell'unione europea tutti i paesi danno una quota della loro iva all'unione europea e poi naturalmente ci sono le tariffe i debiti ma i debiti è tutta un'altra questione naturalmente quindi comunque questa giunta non è male anche se anche qua un limite c'è ovvero questo limite è il fatto che la creazione di nuove organizzazioni immagino non vada a fondo come per quanto riguarda l'upgrade dell'unione europea ed è un peccato perché vuol dire che il 2021 essenzialmente ti spinge a giocare in europa che ci può anche stare perché comunque ci sono varie nazioni che si possono giocare che potrebbero entrare nell'unione europea quindi c'è anche quella quel magelli però voglio dire potevano anche un pelo potenziare la parte delle delle organizzazioni ma suppongo che prima o poi lo faranno voglio dire siamo alla versione 2021 arriverà la versione immagino 2022 quindi ce n'è di tempo per miglioramenti ci vuole incontrare il primo ministro delle barbatos va bene ci vediamo ma si va benissimo il il set ok ci vediamo il set tanti auguri a me 31 ottobre tra parentesi l'economia sta crescendo tantissimo siamo a un 14 per cento di crescita che è qualcosa di impressionante e non sappiamo davvero più come spendere i fondi dell'unione europea ecco quello era è un altro limite della giunta che hanno fatto hanno si è messo questa cosa molto interessante dei fondi dell'unione europea ma troppi pochi modi per spenderli e il fatto che tutte le spese sono condizionate da spese nazionali non è utile perché vuol dire che se non sei nella facoltà o non vuoi spendere i fondi della della nazione in quella determinata cosa non puoi spendere neanche quelli dell'ue e nel nostro caso noi andremmo a bruciare 36 miliardi 36 miliardi sono una barcata di soldi ma solo perché non non abbiamo come spenderli il nostro paese è un disastro in termini di agricoltura biologica scusami davvero desolato un vero amico nel nostro pianeta automobili pulite ok questa migliorando eccetera 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 legionari molto rapidamente non lo sapevate ho creato un gruppo disco per tutti noi amanti dei giochi di strategia e di simulazione geopolitica volete partecipare alla sua creazione al suo sviluppo bene vi invito a unirvi al link sotto in descrizione e ora riprendiamo pure con il nostro video un'altra cosa che un po mi dispiace è il fatto che per esempio anche le sovvenzioni su determinati settori non possono essere sussidiate anche con aiuti dell'unione europea che sarebbe stata una cosa anche abbastanza sensata però vabbè ce ne faremo una ragione una cosa che abbiamo cercato di fare tra l'altro in questa campagna è stato diminuire il numero di soldati in carriera e l'abbiamo fatto mi sembra che siamo partiti da 120 mila adesso siamo a 100 mila quindi comunque un po da quel punto di vista abbiamo abbiamo ridotto siamo riusciti comunque con le varie manovre a far sì che la disoccupazione non fosse estrema anzi il tasso di disoccupazione penso che sia il più basso che ci sia mai stato in spagna nell'ultimo nell'ultimo secolo quindi ottimo risultato assolutamente nonostante anche abbiamo alzato la l'età pensionabile manovra che non ci potremmo permettere in questo momento con il nostro 64 per cento misero e scarso purtroppo dobbiamo cioè purtroppo naturalmente dobbiamo seguire questo risoluzione 1519 ai 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 allora qualcuno ha proposto qualcosa a è l'adozione di tutte le leggi del parlamento in questo caso vediamo che ci sono tre nazioni che sono contrarie che sono ungheria cipro e anche polonia una limitata tensioni non contate quindi in teoria dovremmo convincere loro va bene 2 ore 30 richiede voto a favore nella risoluzione chiedi di influenzare un altro capo di stato e chiede un voto a favore mi dice ma posso scegliere io scusa non volevo va bene e se vogliamo allora convincerli e non vogliamo rischiare che la legge non passi possiamo trattare con loro e possiamo dire che li rimborsiamo di un tot tipo così dell'un per cento allora uno però non mi fa vedere il il costo di una manovra di questo tipo cioè io posso anche proporre però non so quanto mi andrebbe a costare effetto siamo a quattro contrari meraviglioso adesso c'è anche la la slovenia e come come faccio non posso più farlo dovrei fare nulla rimborso e dannazione non posso più rifarlo maledizione e la slovenia ha fatto finta di niente ha detto no 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 non la facciamo passare questa legge poi ha detto di sì ma maledizione scusa non posso rioffrirgli il rimborso mi sa di no mi sa di no soluzioni bilancio politiche risultato incerto e niente c'è più niente da fare la legge non passerà scusate colpa mia ho sbagliato nella nella gestione di questo incontro ok anche questa cosa qua delle trattative che ci sono non mi fa impazzire ma questa è un'opinione personale la votazione non è passata perché serviva l'unanimità giustamente giustamente strano che il no sia venuto da quei tre paesi piuttosto che da altri che magari avrebbero avuto una perdita di potere relativamente maggiore rispetto a quelli ci vogliono vendere del cotone anche loro all in praticamente vabbè che hanno un'eccedenza abbastanza grande ma sentite io non sto neanche a rinominare questi contratti se tanto poi andremo a terminare la campagna anche la cifra 1.400 mi sembra accettabile ho detto 1.400 mi sembra accettabile facciamo 1.450 non tirare la corda non tirare la corda barbados 1.500 ha una proposta che non puoi rifiutare esatto bravissimo ciao è stato bello è stato bello noi stiamo gradualmente perdendo popolarità tra l'altro però naturalmente con hyperloop facciamo partire questo treno non ho mai fatto in nessuna campagna un hyperloop ma non sarà questa la volta in cui lo faremo arriva la mauritagna va bene che ci vogliono vendere del ferro in realtà noi lo stiamo importando quasi tutto la mauritagna però ci dice sai che c'è ne hai bisogno di ancora un po lo vuoi e che faccio gli dico di no gli dico di sì assolutamente dammi tutto il ferro che hai ferro dal ghiaccio citazione per per alcuni di voi che so che hanno ottime memorie soprattutto della campagna di vittoria ma anche con quella di empire total war in cui questo era il nostro motto in generale tutte le volte che abbiamo giocato con la svezia ferro dal ghiaccio è stato il nostro il nostro moto abbiamo giocato peso due volte con la svezia sia empire e victoria e perché no magari ci torneremo prima o poi o su ck3 oppure su victoria 3 in realtà avrebbe molto senso portare la svezia su victoria 3 è un'ottima idea geniale direi assolutamente assolutamente o anche su earth of iron titolo che non vediamo da un sacco di tempo restrizioni sanitarie ancora in corso sì 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 dimmi qualcosa che non so le vaccinazioni non vanno avanti ma non abbiamo queste dosi ordini attuali stima del numero necessario data il fine delle risorse il teorelli sta utilizzando vabbè sarà che magari non sta aggiornando l'assunto perfezione della plastica biodegradabile primo ministro i nostri laboratori hanno messo a punto un nuovo biomateriale plastica biodegradabile composto principalmente da mais geneticamente modificato questo nuovo materiale plastico può essere usato per qualsiasi forma di imballaggio riccio o flessibile senza alcuna restrizione il biodegradabile al 100% degrada in soli 20 giorni non siamo i primi ma possiamo beneficiarne pienamente la vuole brevettare sì protocolli sanitarie pompiamo un po d'aria abbiamo il processo di cattura del co2 adesso mica male mica male e lo troviamo su ambiente penso eccolo qua potremmo potremmo farlo volendo tra l'altro abbiamo diminuito penso di molto le emissioni di co2 guardate qua grazie alle nuove centrali siamo passati da 0,26 gigotonna di co2 a 0,21 è una riduzione del 25 per cento in un anno e decisamente non è malvagia e considerando che dal punto di vista energetico abbiamo fatto tante belle cose è un'ottima notizia è decisamente un'ottima notizia non vedremo naturalmente l'ultimamento la brutta parola c'è un termine che inizia così ma non finisce lo stesso modo ma non lo userò perché non mi viene in mente non vedremo la conclusione della costruzione tutti questi impianti ma sapremo che avremmo ottenuto ottimi risultati io legionario adesso vi saluto perché il nostro tempo è finito e spero di rivedervi tutti nel prossimo episodio mi raccomando lasciate qua sotto i vostri commenti consigli e suggerimenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa fine di campagna anche se in realtà per l'appunto sarà il prossimo l'ultimo episodio e se avete già un po di nazioni da proporre per la successiva campagna cominciate a scriverla perché prima o poi ci sarà il sondaggio nella schermata della community e adesso vi saluto a tutti i legionari e a presto 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 a tutti i legionari e a presto